ma sei ancora lì? beh ma scusami il concetto non è alle 15 15 alle 14 15 a e che ora è adesso 14 14 e 14 14 prendi almeno il papillon non mi serve almeno prendi la bacchetta la bacchetta e la partitura le parti non ti preoccupare suonando tutto passa non ti preoccupare suonando tutto 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 ma venire aspetta abbracciati sotto questa pioggia che ci scioglie e ci rimescola, dandoci ogni volta una nuova motivazione. Andrà tutto bene.